Ma signora, che cosa ha fatto? L'ho visto in vetrina e l'ho comprato senza neanche provarlo. Via signora, non si compra una cosa senza averla provata. Già, ma come si fa ad esempio a provare una cera? Semplice, si acquista cereoli in offerta prova. E una donna di buon senso fa sempre una prova, soprattutto una prova a buon mercato. Infatti, cereol in offerta prova costa solo 125 lire e basta comodamente per una stanza. Poi, se la prova cereol avrà soddisfatta, potrà usare questo buono per l'acquisto di una confezione regolare di cereol.